Il sintetico sì, ma al Mezzetti e non al Pallozzi, e il monito della dirigenza dell'Ovidiana, la squadra degli Ultras Biancorossi che milita nel campionato di terza categoria. In un comunicato del presidente Giuseppe Cantelmi viene stigmatizzata la decisione dell'amministrazione comunale annunciata dall'assessore Mario Sinibaldi di realizzare il manto sintetico allo stadio comunale Francesco Pallozzi, che a Sulmona si realizzi per la prima volta un campo di calcio insintetico, si legge nella nota, non può che essere una buona notizia che evidenzia un ritrovato interesse sul mondo dello sport cittadino in un cambio di rotta rispetto al passato, tuttavia la scelta di realizzarlo al Pallozzi ci lascia qualche perplessità. Dal nostro punto di vista, prosegue la nota, sarebbe stato più funzionale realizzarlo al Mezzetti che ora rischia di cadere nel dimenticatoio. L'Ovidiana, al contrario della scelta di puntare direttamente sullo stadio comunale, ritiene che il sintetico al Mezzetti avrebbe significato assicurare a tutti e non solo al calcio di poter usufruire di un impianto perché il Pallozzi andrebbe lasciato in erba da destinare esclusivamente alle partite ufficiali della domenica, così come avviene tradizionalmente. I dirigenti dell'Ovidiana fanno inoltre presente che in un'ottica di futuro sviluppo il Pallozzi, vista la sua storicità, non può avere migliorie o interventi strutturali, al contrario del Mezzetti che potrebbe invece essere sviluppato all'interno di una zona strategica della città. In merito all'affidamento della gestione dello stadio Pallozzi, il presidente Cantelbi suggerisce di riflettere e ponderare bene qualsiasi decisione affinché si assicuri a tutte le realtà cittadine il pieno diritto a svolgere le attività sportive e non pensi qualcuno, conclude la nota, di trasformare lo stadio comunale in casa propria perché il Pallozzi è della città. Pallozzi Pallozzi Pallozzi